Abbiamo vinto un premio per l'edificio non residenziale, si tratta di una scuola primaria realizzata a Loiano, un paese sulle colline bolognesi. La scuola è stata realizzata in un anno e con una forma particolare, la ditta ha vinto una gara per sia la costruzione che la gestione, la manutenzione successiva della scuola per i successivi 30 anni. Quindi abbiamo lavorato in stretto contatto con l'impresa, con la ditta che ha realizzato la scuola e questo ci ha permesso di confrontarci e di trovare delle soluzioni che soddisfacessero oltre che chiaramente l'impresa, la committenza, il comune e anche soluzioni progettuali e sostenibili. A livello di sostenibilità la scuola si mantiene esclusivamente con l'impianto fotovoltaico in copertura, è realizzata in legno al piano superiore e in cemento armato a piano terra e l'attenzione particolare del progetto è stata quella di inserire la scuola all'interno dell'ambiente, all'interno di un contesto naturale molto interessante, infatti Loiano è situato a 700 metri e la scuola si affaccia sulla valle, quindi noi abbiamo cercato sempre di perseguire questo rapporto e questa vista verso l'esterno, verso il paese in modo che i bambini all'interno della scuola potessero avere continuamente questo rapporto verso l'esterno. Quindi il nostro primo pensiero, oltre alle varie valutazioni, è rivolto proprio ai bambini, ai fruitori della scuola, a coloro che vivono. Grazie